che sofferenza ragazzi che sofferenza non c'è fotocopia di udinese milan uguale stessa dinamica di risultato identico proprio ma non si può andare avanti così andare in vantaggio farsi rimontare e poi rimontare di nuovo l'avversario e vincere la partita in queste condizioni sia che i tre punti arrivati con udinese arrivati oggi contro il frosinone però sinceramente così a fine campionato non ci arrivo sinceramente altra partita ci sono stati tanti errori si è vinto abbiamo conquistato i tre punti ma a livello tecnico stati tanti errori il secondo gol del frosinone c'è stata anche la papra di magnan oggi probabilmente forse anche con l'udinese qualche mese incertezza del portiere francese c'era stato e di buono prendiamo solo la vittoria portiamoci a casa questi tre punti c'è altro niente da aggiungere una partita il milan doveva vincere giocando e portando la casa più facilmente forse non è pressando alto ha messo in difficoltà i rossoneri ma sinceramente non partita molto ma molto difficile sentenza jovic entra anche oggi dopo un minuto gol della vittoria e tutti quelli che avevano a inizio campionato anzi prima quando il serbro è arrivato ma che abbiamo preso ma che ce ne facciamo di questo calciatore così tutti quanti chiedere scusa a luca jovic chiedete scusa a luca jovic sette gol ha fatto in un mese e mezzo sette gol e la maggior parte non è mai giocato titolare sempre da sub entrato quindi tifosi rossoneri chiedete scusa a luca jovic ora testa a domenica sera contro il napoli mancherà reinders che è stato munito oggi ed era diffidato e prendiamoci questi tre punti sicuramente qualcosa recupereremo o su inter o su juve o su entrambi se esce il pareggio e ricordiamoci anche che domani ci sarà anche atalanta lazio quindi chiedete scusa a luca sentenza jovic